Grazie a tutti. Grazie a tutti. Si è riuscito a collegare il sindaco, io volevo soltanto aprire la serata, passo la parola al sindaco Edoardo Gaffeo che porterà i saluti statunitari. Grazie a tutti. 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 livello con il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è riuscito in questi ultimi mesi a bucare un pochino di più come attenzione mediatica ma non deve assolutamente offuscare gli altri due argomenti. La buona notizia è che le soluzioni di uno sono soluzioni anche per gli altri. I problemi ambientali si risolvono tutti con le stesse modalità che sono quelle di consumare meno, di consumare meglio, di rigenerare, di fare pochi rifiuti, di avere un mondo che effettua questa benedetta transizione ecologica, transizione energetica e cioè che non sia più basato su il forsennato uso delle energie fossili. Questo come cappello. Adesso lascio a Francesco anche introdurre perché è casa sua e quindi dare la visione generale del problema e poi via via scegliamo degli argomenti. La riflessione può partire sicuramente da alcune delle cose che hai detto ma soprattutto il fatto di essere all'interno di un innovation lab, Urban Digital Center, che nasce come un luogo soprattutto anche per raccogliere informazioni e pensare a informazioni nuove per la città, per la gestione delle risorse scarse, per la gestione anche di tutto quello che riguarda anche il rapporto tra la città e il suo patrimonio culturale, storico e ambientale. Noi come chi si occupa di urbanistica e di città guarda con grande attenzione a tutta la dimensione climatica e a tutta la dimensione per comprendere in che modo gli impatti climatici in qualche maniera possano direttamente agire su questi ambiti. Ne parliamo ormai da tanti anni di questi aspetti. Ma anche il sindaco lo ha ricordato, pensate che la fondazione dell'IPCC, cioè il Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici, è del 1988. E c'è un tema, per non parlare delle COP, visto che si è chiusa la COP. 26, 26 vogliono dire 26 anni, più alcuni anni in cui non si è fatta diciamo 30. La cosa che mi piacerebbe che discutessimo anche con te stasera è quello del grande gap che c'è tra le scelte globali, a partire dagli accordi globali sul clima, agli temi degli accordi sulla riduzione delle emissioni climalteranti e tutto quello che riguarda invece cosa possiamo fare nelle città, che è un po' quello che stiamo guardando da un po' di anni e stiamo sperimentando anche, abbiamo visto anche proprio stamattina, abbiamo chiuso anche un programma di ricerche pluriannali sostenuto dalla Commissione Europea che ha cercato di capire cosa sta succedendo nell'area centrale del Veneto, in particolar modo legato agli impatti dell'estremizzazione di fenomeni estremi sulle città. Il tema è capire come fare, progettare e riprogettare e disegnare le città in una dimensione di maggiore efficienza climatica e di maggiore efficienza anche a rispondere ad eventi che in qualche maniera sono sempre più frequenti. In questo chi si occupa di clima, chi studia il clima, ci dà agli urbanisti, agli architetti, a tutti quelli che si occupano di progettazione dell'ambiente costruito, degli grandi indirizzi. Il tema del rapporto con l'IPCC di cui parlava il Sindaco, che non fa altro che peggiorare ogni quattro anni le sue previsioni, c'è tutto il tema sotteso di cosa succede quando scendiamo di scala, quando succede quando arriviamo sulle città, cosa succede quando guardiamo all'interno di una città, allo stesso, nello stesso ambito, come reagisce diversamente a seconda degli impatti. Stamattina abbiamo parlato anche di cosa succede lungo le coste venete, abbiamo parlato di cosa succede in generale lungo le coste italiane e abbiamo cercato di capire anche, cercheremo di capire anche che tipo di soluzioni possono essere messe in atto, che sono soprattutto soluzioni sistemiche, non sono soluzioni di una parte, ma sono soluzioni che in qualche maniera devono provare a dare maggiore capacità, chiamiamola le città e i territori, di rispondere in qualche maniera ad uno scenario mutevole e sempre più intenso in termini di fenomeni. Il rapporto tra globale e locale, come lo gestiamo? Cominciamo a parlare un po' di globale perché tanto siamo su un pianetino piccolo piccolo e tutto quello che succede a livello globale poi si riverbera anche a livello locale. Pensate che in questo momento alcune delle cose più drastiche, drammatiche che stanno accadendo al clima sono in luoghi remoti di cui nessuno si interessa, cioè l'oceano artico, eppure quello che succede nell'oceano artico condizionerà Rovigo, per esempio la fusione dei ghiacci della Corea Inlandia condizionerà il livello del mare e quindi un posto come il delta del povera immediatamente impattato da dei fenomeni che accadono a migliaia di chilometri da qui in luoghi disabitati a cui tendiamo a non dare alcuna attenzione. Quindi il globale è sempre in sottofondo, poi a livello locale possiamo declinare la nostra serie di reazioni, di scelte, di progettualità. Questo signore qui è la persona più autorevole del mondo, molto di più di Biden, molto di più di Putin, di Draghi, di von der Leyen, perché ci rappresenta tutti, è il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, tra l'altro ha il suo secondo mandato, è un ingegnere portoghese, perché me l'avete tolto? Un ingegnere portoghese che tra l'altro è persona con una capacità di interpretazione dei dati scientifici, che si spende da ormai più di cinque anni ad avvertire l'umanità sul rischio di grave catastrofe ambientale a cui andiamo in conto, e usa proprio la parola catastrofe. Adesso basta con queste false etichette, catastrofista, non catastrofista. La situazione è grave, punto, ed è assodato dai dati scientifici ed è preso in considerazione dalla massima autorità diplomatica del mondo, che quando apre la bocca parla per 196 governi e ha detto che l'ultimo rapporto dell'IPCC che è uscito in sordina a inizio agosto, quando eravamo in vacanza, è stato definito da Guterres un codice rosso per l'umanità. Codice rosso vuol dire emergenza, vuol dire che dovremmo avere tutti un livello di reazione pari all'emergenza, che invece attorno a voi vedete, non c'è, non ci sentiamo in emergenza climatica. Ci si sente ogni tanto qualcuno quando viene toccato sul vivo, ma spesso anche le comunità che sono toccate da fenomeni violenti, io penso, visto che sono più o meno questi i giorni dell'anniversario, a vaia a fine ottobre del 2018, all'acqua alta di Venezia, ai boschi distrutti, che queste comunità hanno sentito il soffio greve del cambiamento climatico sulla loro tè, sul loro collo, ma poi si dimentica, si dimentica in fretta, è anche umano, c'è un meccanismo di rimozione e uno ritorna a fare le cose che si facevano prima, addirittura con delle conseguenze gravi sul piano urbanistico, perché lo sentirai dire mille volte, quando c'è un evento catastrofico di questo genere bisogna ricostruire, che è la peggiore cosa che bisogna fare, in certi casi non bisognerebbe più ricostruire in certe zone e negli stessi posti, proprio perché se il danno è avvenuto è quasi certo che avverrà di nuovo già in un clima normale, figuriamoci con un clima che ti sta cambiando sotto i piedi e destinato quindi ad aumentare, la frequenza dei fenomeni intensi. Allora vediamo giusto due parole anche di storia, perché bisogna chiarire il fatto che questa non è una novità di ieri, è un po' tagliata l'immagine, non so se riuscite a centrarla, ma quando sentiamo parlare di cambiamento climatico c'è dietro più di un secolo di ricerca scientifica, non sono dei dati ancora parziali, su cui non abbiamo capito granché. Sono dei dati consolidati che hanno più di cento anni di storia, per la precisione, la scoperta di come funziona l'effetto Serra che tiene caldo, che tiene tiepido il pianeta e addirittura da centocinquant'anni o anche di più, perché inizia niente meno che il matematico Joseph Fourier a definirlo e siamo nel 1820. Poi arriverà il grande fisico irlandese John Tyndall, anche alpinista tra l'altro, uno che tentò la salita del Cervino a metà ottocento, ma è colui che dice e l'anidride carbonica sono i gas, i cosiddetti gas a effetto Serra che ci tengono tiepidi al punto giusto. E poco dopo, qui siamo verso la seconda metà dell'ottocento, alla fine dell'ottocento diventa chiaro il ruolo umano. Il ruolo umano nel cambiamento climatico lo rivela Svante Arrhenius, in realtà ci sarà anche una donna, Eunice Foote, sconosciuta, una ricercatrice americana, rarissima, donna scienziato di fine ottocento che lo enuncia prima di Tyndall e prima di Arrhenius, lo voglio dire perché siamo in un'epoca dove si cerca di mettere in evidenza anche il ruolo femminile nella ricerca scientifica e poi cercheremo, è da poco tempo che è stata identificata come precursora di questi studi, sarà una decina d'anni che sono stati trovati i documenti che ne attestano la, non so neanche dire paternità, perché non è una paternità, è una maternità scientifica. Però veniamo al premio Nobel Svante Arrhenius, 1896, uno svedese che dice bruciando il carbone scalderemo il pianeta. Ecco, tutto inizia già lì, non è una questione adesso di svegliarsi, dirà l'ha detto Greta Thunberg, Greta, fa una cosa giusta, cerca di svegliare delle coscienze, ma la scienza lo ha detto da più di cento anni, poi arriverà tutta la ricerca scientifica del secondo dopoguerra, arriverà Charles Keeling, il geochimico americano che nel 1958 comincerà le misure quotidiane di concentrazione di CO2 nell'aria, un osservatorio che è ancora attivo oggi alle isole Hawaii e in suo onore il grafico di continuo aumento della CO2 viene chiamato oggi la curva di Keeling e poi voglio citare ancora Siukuro Manabe, il nome Manabe che è un nome giapponese, lo vedete lì verso il 1970 perché ha ricevuto il premio Nobel un mese fa insieme al nostro Giorgio Parisi. Suki Manabe è un giapponese di 90 anni che ha quasi sempre lavorato negli Stati Uniti e che già nel 1967 aveva fatto uno dei primi modelli matematici di simulazione del clima nel quale diceva più brucieremo carbone e petrolio e più aumenteremo la temperatura del pianeta. Questo per la scienza diventa politica nel 1992 con due rapporti al congresso americano e in mezzo che vengono però gettati alle ortiche in sostanza. Il rapporto Charney per esempio è un rapporto del 1979 e diceva queste cose sulle quali purtroppo ancora una volta si è perduto del gran tempo. Eccolo qui, Jules Charney è stato uno dei più importanti meteorologi della storia, è un rapporto che era firmato non più da un solo gruppo di ricercatori ma niente meno che dall'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti. Quindi non abbiamo più scuse. E questo voglio farvi questa piccola storia perché pochi la conoscono e non è che questi slogan salviamo il pianeta, queste cose un po' giuste ma un po' naif da organizzazioni ambientaliste sono nate oggi. Questa è Solidance Scienza che ha più di un secolo di verifica e di tentativo di emergere nella politica che è stato regolarmente affossato in primis per l'intervento delle grandi compagnie petrolifere che hanno insabbiato ogni genere di studio e ricerca creando il dubbio esattamente come oggi accade con i vaccini, con il virus, col complotto di qui. Il risultato sono stati decenni e decenni di ritardo nell'arrivare a quelle decisioni che nemmeno oggi sono state prese perché alla COP26 a Glasgow nuovamente si è tornati a casa con pochissime scelte incisive e con tanti rimandi coniugati al futuro. Faremo al 2030, al 2040, l'India addirittura al 2070, finiremo, usciremo dal carbone lì, smetteremo di deforestare l'Amazzonia quando? Nel 2030. Ma Bolsonaro in nove anni ha tempo di far fuori tutta la foresta e poi gli diamo anche il premio qui, visto che era di queste zone la famiglia, accidenti, beh fa niente, da qui a 12.000 chilometri Padova Rovigo non cambia niente, cioè quello che conta è che nove anni sono sufficienti a radere al suolo la foresta amazzonica. Poi facciamo invece queste cosette simpatiche di dire piantiamo più alberi, ma invece di piantare nuovi alberi lasciamo in piedi quelli che ci sono, forse è più facile, ma gli interessi economici purtroppo vincono un po' ovunque e portano a rilento quelle scelte che dovrebbero invece essere applicate già questa sera, perché se siamo in codice rosso il fattore tempo è importante, l'urgenza è importante. Quindi andiamo a vedere che cosa ci aspettiamo e poi passiamo alle città. La temperatura sta già salendo, questi sono i dati effettivi e reali di come si sta comportando la temperatura del pianeta Terra. Abbiamo già aggiunto un grado virgola due nell'ultimo secolo, che è tanto per un intero pianeta. E poi andiamo a vedere che cosa ci aspetta invece in futuro con il grafico. qui ci sono tutta una serie di record di cui eventualmente li commenteremo, ma intanto voglio farvi vedere questo. Anche l'ultimo rapporto dell'IPCC, quello del codice rosso, ci dice chiaro. Se applichiamo rapidamente l'accordo di Parigi che chiede di diminuire drasticamente le emissioni di CO2 portandole a zero nel 2050, possiamo sperare di rimanere nella linea azzurra che è un aumento di temperatura di non più di due gradi alla fine di questo secolo. Notate che uno l'abbiamo già preso, ci resta un margine di meno di un grado, abbiamo già preso 1,2, quindi c'è 0,8 da qui al 2100, che è veramente poco, ma possiamo ancora farcela, dicono i calcoli. Se però questa dieta dimagrante delle emissioni la facciamo adesso, subito, nei prossimi dieci anni. Viceversa, se lasciamo il modello cosiddetto business as usual, cioè un'economia senza limitazioni a livello planetario, ci aspetta quella linea arancione che è una linea catastrofica, parole di Gutierrez, non di Mercalli, non di Muscov, se non date a noi dei catastrofisti, le dice invece il segretario generale delle Nazioni Unite. Ha detto a Glasgow, alla chiusura della conferenza, stiamo ripetutamente bussando alla porta della catastrofe. E la catastrofe poi arriva perché le leggi fisiche sono fatte così, le stimoli, le aizzi, poi quando partono hanno tempi di sviluppo e di irreversibilità che sono di decine di migliaia di anni. Se il mare aumenta non è che poi lo fermi con un decreto, non è che fai la giunta comunale di Rovigo e dici mare, ritornate nel doveri. E il mare ti fa così, perché giustamente una volta che le calotte glaciali si sono fuse, l'unico modo per riportare il mare al suo posto è la prossima glaciazione, che forse avverrà tra 50.000 anni. Nel frattempo sei tu che scappi da Rovigo e il mare rimane qui. Quindi vedete la assimmetria enorme che c'è tra i negoziati tra uomini che sono lenti, capricciosi, come mettere d'accordo un condominio di 196 appartamenti e le leggi fisiche che invece seguono una via cosmica che è fatta così da 13,7 miliardi di anni. Non è che ci fanno degli sconti. L'unico modo che abbiamo per evitare il peggio è la prevenzione e la prevenzione è uno spazzettino di pochi anni prima che quelle due righe si divarichino definitivamente. Dopo non c'è più nulla da fare e noi allora su questi dieci anni che abbiamo davanti abbiamo ancora lo spazio per fare due operazioni, la mitigazione e l'adattamento. La mitigazione è ridurre il danno, ridurre proprio come causa, quindi abbassare le emissioni e vale ancora per una decina d'anni. Dopo termina la finestra di efficacia della mitigazione e rimane l'adattamento. Ma l'adattamento è una sconfitta. L'adattamento non è qualcosa di bello, nobile, piacevole. Purtroppo per adattarsi si perde qualcosa. Ad adattarsi si è costretti certe volte a scappare, ad abbandonare dei luoghi. Come sempre a Glasgow anche quest'anno i governi dei piccoli atolli corallini hanno fatto la dimostrazione con il Consiglio dei Ministri sott'acqua oppure con l'acqua fino alla cintura. Ma poveracci, ma lì stiamo parlando di stati sovrani che spariscono fra 50 anni. Un atollo corallino su un metro sul livello dell'Oceano Pacifico non c'è semplicemente più. Questi sono stati che dovranno essere accolti da qualcun altro. L'Australia ha detto sì sì venite pure da me ma pagate però. Vi vendiamo un pezzo di territorio a parecchie decine di milioni di dollari. Possiamo adesso farci così delle battute ma vi rendete conto della tragedia per intere popolazioni che sono piccole per ora. Sono mille, duemila persone di certe isole Marshall, Iechiribati. Però un po' dopo può capitare a noi questo. Può capitare proprio a un delta del Po che è fragile da questo punto di vista. Arrivo lì che poi lascio direi. Ecco qui. Guardate i dati sul mare. Ci tengo particolarmente in un luogo come Rovigo a parlarvi di questo perché lo scenario è uno, il mare sta già aumentando. Quindi non stiamo parlando di fantascienza, di cose che accadranno, non siamo sicuri se. No, i satelliti ci dicono 3,7 mm all'anno è il tasso attuale di crescita ed è in aumento. Devo aggiornare ogni due o tre anni questo grafico. Prima nella slide di qualche mese fa io avevo scritto lì 3,4. Siamo già a 3,7. Prima era 3 perché via via che la temperatura nel pianeta aumenta le acque oceaniche si espandono per dilatazione e le calotte glaciali fondono. La Groenlandia in particolare e tutti i ghiacciai dall'Himalaya alle Ande alle Alpi e già anche un pezzettino di Antartide. Non tutta per fortuna ma la zona della penisola occidentale dell'Antartide è fortemente instabile a rischio di contribuire per svariati centimetri al livello del mare. E lo scenario che abbiamo davanti è proprio coppia quelle due righe del grafico della temperatura. L'ipotesi prudente di due gradi porta comunque a un mezzo metro di mare in più per effetto della perdita di tempo ad agire dei 30-40 anni precedenti. Forse avremmo potuto limitarla a 20 centimetri, invece siamo già tra 40 e 50, anche se applicassimo l'accordo di Parigi questa sera, cosa inverosimile. Ma se non facciamo proprio nulla e non appiechiamo niente e lasciamo tutto così, il mare aumenta di un metro, un metro e venti al 2100. Non vi sto facendo vedere il grafico del dopo. Ma la buona notizia è che se si ferma l'aumento marino a mezzo metro lo blocchiamo, ma lo blocchiamo anche per i secoli successivi. Bisogna regimare quel problema di quel mezzo metro ma poi consegniamo ai figli e nipoti una situazione sotto controllo, relativamente stabile. Se invece entriamo nello scenario del metro e si va dunque a instabilizzare l'intera calotta della Groenlandia, lì ci sono in serbo sette metri d'acqua e nei secoli successivi continua e la stima dice, sempre stime dell'IPCC, cinque metri in più al 2300. 2300 non è millenni, è il mondo nel quale vivranno i nostri bisnipoti. Sono un paio di secoli e un paio di secoli sono cose per le quali l'architettura di oggi progetta e costruisce e speriamo che sia ancora lì e quindi vi rendete conto della posta in gioco. In entrambe le situazioni che purtroppo non dipendono tutte da noi perché che vada su di un metro di mezzo metro non dipende dai rodigini, neanche dal Veneto, neanche dall'Italia o dall'Europa, dipende da tutto il mondo, dipende dagli americani, dai cinesi e dagli indiani, da miliardi di scelte individuali e da 196 scelte nazionali. Allora ecco che la mitigazione per dieci anni può ancora farci restare sulla riga blu, che è quella che tutti ci auguriamo. L'adattamento è quella che in ogni caso noi qui a casa nostra dobbiamo fare perché l'adattamento è locale, la mitigazione è globale e l'adattamento a questo punto io passo la parola a Francesco perché è una forma mentis che dobbiamo avere nella progettazione tanto di un'abitazione privata quanto di una città, di un intero territorio di fronte a questi numeri. Non c'è poi solo l'aumento del livello del mare, possiamo parlare dell'aumento delle alluvioni, l'aumento della temperatura. Torniamo su quella slide sulle isole di calore urbano, che era un po' la chiave di lettura di molte delle questioni. In realtà questi ragionamenti sul rapporto tra città e clima è un po' di anni che li stiamo portando avanti anche perché tra l'altro non molti se lo ricordano ma Rovigo è ospitato nel 2008 l'attuazione della conferenza europea delle piccole città europee del mondo, 250 rappresentanti di piccole e medie amministrazioni che sottoscrissero la Rovigo Outreach che fu parte delle azioni di contrattazione per arrivare poi a levare COP. Vedete quanti anni sono già passati, queste cose che abbiamo fatto qui. Sì, sono nel 2008. Abbiamo già detto tutte queste cose nel 2008, però ci sono i grafici che possono dire. Nel frattempo è successo qualcosa, nel senso che sono peggiorate le condizioni al contorno, però c'è anche una spinta da parte delle città. Le città sono sempre state tenute un po' al margine di questo dibattito, questo a partire da la conferenza di Rio de Janeiro del 92, a Johannesburg e a tutti gli incontri internazionali che ci sono stati legati agli agreement mondiali sul clima, perché proprio per quella divisione tra mitigazione e adattamento i grandi accordi lavorano sul taglio delle emissioni e non riescono mai ad arrivare ad un agreement consapevole. Nel frattempo però i danni degli eventi estremi ricade sui sindaci, perché poi di fatto il tema viene gestito di fatto tra... ricade sulle città, ricade dove ormai 70% della popolazione mondiale risiede, in ambiti urbani, città, territori costruiti, e quindi c'è un tema di dare delle risposte sulla scala locale. È chiaro che le città grandi hanno più capacità a immaginarsi anche delle soluzioni, ma il tema per esempio del surriscaldimento delle aree urbane è uno dei temi più all'olio del giorno. Di isole di calor urbano si parla dagli anni 60, ma oggi il differenziale di temperatura che c'è tra le aree costruite e le aree non costruite in una media città italiana durante i mesi primaveri e estivi può essere anche di parecchi gradi, di alcuni gradi. Questo capite bene che in uno scenario dove le temperature medie sono molto più alte ha degli impatti sulla salute, sui consumi energetici, sulla qualità della vita. C'è un piccolo gioco che si può fare sul sito web del New York Times, non so se Luca l'hai mai fatto, in cui metti dentro il giorno di nascita e ti dice le temperature medie del luogo di dove sei nato o nel giorno in cui sei nato e nel giorno e oggi. Se uno lo fa su una città meglio del Veneto o del nord-est italiano, la differenza passa negli ultimi, mettiamo, 45-50 anni da alcune giornate con temperature medie superiori ai 30 gradi a 90 giorni con temperature medie superiori ai 30 gradi. Allora, questi sono ovviamente, come dire, ovviamente sono dati filtrati, come dire, con un valore comunicativo, ma il tema delle temperature medie e intense in alcuni mesi dell'anno che non sono solo agosto e luglio, ma sono immediatamente più alte, è uno dei temi in cui le città si devono confrontare. Ti ho messo lì, infatti, che cosa è successo nel 2003? Con questo debutto dei 40 gradi. L'eondata di calore che ha generato in pochi giorni, un paio di settimane, quasi 70 mila morti in tutta la regione di France, nell'area di Parigi, Italia, Svizzera, Germania, Spagna. Con concentrazione in area francese molto più alta e di fatto dovuto all'incapacità delle aree urbane, perché semplicemente non sono state progettate per garantire una qualità della vita a temperature superiori ai 40 gradi per diversi giorni consecutivi. Pensiamo a tutti gli edifici storici parigini, dell'area francese, i sottotetti abitati dei grandi palazzi, anche in un certo pregio dell'area parigina e questo fu il risultato nel 2003. Le grandi ondate di calore che hanno colpito non solo l'Italia, ma un po' tutta l'area centrale europea, ha avuto degli impatti fortissimi sull'economia del turismo, che si accorcia, cambia. Oggi, come dire, le capitali europee sono sempre meno, come dire, hanno presenze molto meno intense che in passato, legate proprio alle infrastrutture, alla capacità anche dell'ospitalità alberghiera di essere, come dire, attrezzata anche a temperature molto alte in zone d'Europa dove mediamente queste temperature non ci sono mai state. O se c'erano, c'erano solo per alcuni gradi. E' tagliato, ma il record è stato 46 gradi. Cioè, pensa alla Provenza, che è un'area turistica, una meta per i francesi, il midi, dove si va in vacanza a luglio-agosto, con 46 gradi. Pensiamo anche a tutta l'area centrale parigina tedesca. Ah sì, tra l'altro, infatti, città che non sono attrezzate. Carta è una delle città europee più colpite dalle ondate di calore e di fenomeni di isole di calore urbano, con differenze di anche 10 gradi dal centro alla periferia. Tutto questo chiaramente ha delle ricadute sulle modalità di progettazione, se parliamo sia di ambiente costruito, come anche di gestione dello spazio pubblico, in termini di materiali, in termini di sistemi del verde, in termini di cosiddette infrastrutture verdi, quindi progettare il verde è anche una dimensione di calmerazione degli impatti estremi da calore e degli impatti estremi da acqua. E' un altro degli altri temi. Di fatto, quando parliamo del rapporto con le città, le due questioni su cui si confronta sono il calore estremo e l'acqua estrema, oppure intenso in un breve periodo. Eccolo qui, come sono a Germania? Area centrale tedesca, la zona di Colonia, la zona dell'area tra Colonia e Düsseldorf, che è stata presentamente colpita qualche mese fa. Diegi perfino, 220 morti nel cuore d'Europa. Ma sono eventi, diciamo, generati di fatto da concentrazione, ce lo insegni meglio chiaramente tu, concentrazioni meteoclimatiche che in un brevissimo periodo, diciamo, o rilasciano Qui c'è stata addirittura una concentrazione particolare, sono stati 15 giorni di pioggia continua, relativamente normale, ma senza soluzione di continuità, che ha imbevuto i suoli, sulla quale alla fine si è prodotto un ubifragio di 150 mm in un giorno, che a Stoccarda, tra l'altro, proprio mi sembra, la stazione meteorologica non aveva mai rilevato in 120 anni di misure. E questo ha portato alla distruzione di interi paesi medievali. Ma questo succede, se facciamo la mappatura solo d'Europa, questi fenomeni estremi legati all'acqua, al calore, sono, come dire, frequentissimi ormai nella stagione estiva, ma una stagione estiva molto allargata, che ormai, credo, vada da maggio a ottobre inoltrato, con fenomeni estremi anche in zone dove magari non erano mai stati segnalati particolarmente, ma per non parlare anche del grande impatto che ha avuto l'alluvione di Venezia, che chiamiamo la virgona di Venezia, in realtà è stata su tutta la costa Veneta nel novembre del 2019, dove lo stesso tipo di impatto ha generato reazioni diverse. E questo, occupandosi di città, ha un tema rilevante, cioè la stessa città o città simili hanno reazioni diverse a seconda di come sono costruite, come è fatto lo spazio. Ma tu citi sempre il caso Scuola di Copenhagen, che magari possiamo spiegare, perché è interessantissimo. Molte città europee si sono attrezzate, specialmente sulla dimensione del ragionare sulla riprogettazione dello spazio pubblico in un'ottica anche di sistema che raccolga l'acqua, pensiamo all'uso dei parchi pubblici anche come luogo di esondazione controllata in caso di eventi estremi, sta facendo a Copenaghen, sta facendo a Rotterdam. Cioè lì praticamente invece di mettere i parcheggi, cosa hanno messo sotto le piazze? Invece di fare i parcheggi sotterranei? Dei serbatoi. Cisterne, vuote, che vengono tenute vuote. Oppure ci sono dei parcheggi sotterranei che sono esondabili, cioè nel caso in cui ci sono delle previsioni che dicono lì, via le macchine. O anche senza via le macchine, perché è meno il danno che avrebbe sulla città che far fuori le macchine. Diciamo in questo processo di controllo delle acque. È tutto un tema di fatto di soluzioni che ormai ricade all'interno dei cosiddetti piani di adattamento, piani di adattamento che sono in corso di disegno in molte città europee. L'Italia ha un piano di adattamento nazionale che purtroppo ancora stenta a decollare. Nei cassetti del ministero. Stenta a decollare ma non ha la capacità. Le regioni hanno avuto mandato dalla conferenza Stato-Regioni di redare i cosiddetti piani di adattamento o piani di strategie di adattamento regionali, ma anche in questo caso le regioni che hanno fatto dei piani sono cinque tutta Italia. Quindi c'è un tema anche di recupero della dimensione delle soluzioni e che non possono essere più orientate solo sulla base volontaria, perché attualmente lavora tutto sulla base volontaria, sugli amministratori illuminati, sui dirigenti illuminati, università che sperimentano noi che testano, noi stiamo lavorando con molte città italiane ed europee su questi temi, però il tema è ancora su una grande livello di sperimentazione. Su questo la programmazione europea 21-27 ha messo moltissime risorse, il 40% delle risorse riguarda l'adattamento e tutto questo però riguarda un ripensare il modo anche di progettare, di riqualificare le città, di fare manutenzione, di fare progettazione degli spazi pubblici, di fare progettazione del verde che implica competenze integrate che non sono chiaramente solo quelle degli urbanisti o degli architetti, sono multidisciplinari, ma che deve cambiare anche e sta cambiando con molta lentezza anche per esempio un sistema di appalto pubblico, un sistema di approvvigionamento di beni e servizi da parte di una città rispetto al mercato, che non è solo il tema degli acquisiti cosiddetti acquisti verdi, ma anche un tema di rivedere i capitolati d'appalto di un'opera pubblica. Pensate anche alla progettazione, fino a ieri si è progettato guardando l'accumulo di dati del passato, oggi bisogna per forza progettare su un futuro dove ovviamente i dati non ci sono se non delle visioni anche suocate, ma dove sei costretto a dire… I dati che possono cambiare in un decennio molto rapidamente. Quindi se tu progetti una fognatura per esempio, un diametro di un condotto fognario per smaltimento di acque piovane, non puoi progettarlo guardando le piogge di 50 anni fa, ma immaginandote le piogge dei prossimi 50 anni. E il tema dei sistemi di raccolta delle acque è un ottimo esempio perché per esempio lavorando in un paese come l'Italia ad alto valore storico, culturale, il patrimonio della storia culturale, capite bene che è molto complicato pensare di rivoltare tutti i nostri centri storici pensando di cambiare i sistemi di raccolta delle acque che comunque non sarebbero sufficienti in caso di evento estremo o in caso di evento localizzato. Allora il tema che scopiando quello che sta succedendo in molte città europee di tutte le dimensioni, perché non è solo un tema delle grandi metropole, ma un tema anche delle città medie, è quello di integrare soluzioni di adattamento nella scala urbana nel medio periodo, sapendo che sono effetti che si avranno in un decennio in termini di nuove soluzioni, perché sappiamo benissimo che tutto ciò che riguarda lavori pubblici o comunque trasformazione dello spazio fisico richiede tempi lunghi. Prima di tutto progettazioni, approvazioni, dieci anni forse passano solo con le carte, poi dobbiamo arrivare a lavorare, non c'è solo cemento poi tra l'altro, ci sono tantissime cose nuove che si stanno in soluzione o delle reti verdi che servono anche a dimensioni, a progettare soluzioni che in qualche maniera abbiano la capacità di calminare gli impatti localizzati, soprattutto di calore ed acqua. Lo scenario è quello che ci hai prospettato, però esiste una grande capacità delle città di adattarsi a questi fenomeni e il tema è estendere questa capacità e questo in parte sicuramente è un ruolo che spetta alle università e ai centri di ricerca, ma anche alle istituzioni pubbliche in genere che devono lavorare. Io sono da un certo punto di vista abbastanza ottimista, perché comunque il lavoro sul patrimonio costruito legato alla mitigazione iniziato ormai una quindicina di anni fa, il dibattito forte sull'efficienza energetica, di fatto oggi è vero che abbiamo un patrimonio, uno stock, un patrimonio edilizio vecchio da recuperare, però tutto ciò che è per esempio nuovo comunque ormai segue principi di sostenibilità molto spinta e seppur essendo una piccola quota diventa anche un esempio importante. Lo stesso va fatto con l'adattamento, la città non è solo pubblica, anzi c'è molta città privata, nel senso di proprietà privata e quindi c'è un tema anche di riuscire a ingaggiare i privati anche in un'ottica di adattamento, pensiamo anche a soluzioni di sistemi di assorbimento dell'acqua nei giardini privati, sistemi di storm water management e tutta una serie di sistemi che progressivamente negli anni possono essere stesi anche alla dimensione pubblica privata della città. Il pubblico può fare da esempio. Qualificazione energetica con gli ecobonus, di cui purtroppo abbiamo dei segnali sempre contraddittori dal governo centrale perché adesso l'ecobonus del 110% che aveva fatto anche un cercato, un subbuglio sui mercati della ristrutturazione edilizia, adesso si annuncia che dal metà 2022 non sarà più concesso alle case monofamiliari private ma solo ai condomini e questo non va bene perché la ristrutturazione è un processo lungo nuovamente, non si fa in un mese, si fa in anni di lavoro e continuare questo tira e molla per cui le persone non sanno se iniziano un lavoro e anche le imprese e se questo andrà avanti per parecchi anni oppure viene fermato in corso. Non è un buon segnale, noi dovremmo pretendere dai nostri governi che se vogliono veramente fare la transizione energetica queste scelte devono essere consolidate con lungo respiro di anni, l'ecobonus dovrebbe essere fissato e mantenuto almeno per un quinquennio. Queste sono ovviamente legate alle soluzioni del rapporto tra interventi e fiscalità generale che chiaramente avrebbe bisogno di un'azione di medi di lungo periodo. Sulle scenari abbiamo visto quello che ci hai detto rispetto alle temperature medie e rispetto anche... Tutto questo come dire è sempre meno scollegato dal rapporto tra globale e locale perché se prima il dibattito sul clima riguardava o comunque riguarda prevalentemente il tema del taglio delle emissioni che non abbiamo raggiunto perché come dire abbiamo... Neanche cominciato... Neanche cominciato... Orientato dal... E' importante dire che l'unico taglio delle emissioni negli ultimi 70 anni l'ha fatto il coronavirus con i lockdown, quello è l'unico punto nel quale nel grafico vedete una vera riduzione delle emissioni del 5,5%. Purtroppo il 2021 ha già annullato questo vantaggio, cioè noi siamo tornati in questo momento a livello globale a emettere esattamente come nel 2019. Questo è un impatto che chiaramente ne diventa il medio e il lungo periodo. Non siamo capaci per ora a ridurre con un'azione negoziata, volontaria, progettata. Abbiamo ridotto per una catastrofe di tipo sanitario, biologico, che però, guarda caso, ha ridotto esattamente di quella fetta che dovremmo togliere tutti gli anni da qui al 2050 se vogliamo rientrare in quella linea di sicurezza dei due gradi. Il Green Deal europeo fa, tra l'altro, un'ottima proposta politica di tante cose che dovremmo fare. C'è dentro l'architettura, l'urbanistica, ma c'è dentro anche l'agricoltura, le energie rinnovabili. Però questa è una bella slide, di fatto. È solo una slide. Tutto questo si deve trasformare in realtà. E al momento non c'è una visione veramente incisiva su tutte queste cose. Molto spesso queste proposte della Commissione arrivano in Parlamento e non ce la fanno a trasformarsi in atti legislativi. Su questo però la programmazione 21-27 mette molte risorse. Il tema vero è riuscire a avere le capacità di progettazione per poterle... E poi però c'è un tema importante. Bisogna anche riuscire a fermare i processi perniciosi, perché solo mettere le risorse su un nuovo, virtuoso, non è sufficiente. È come un malato. Se si sta intossicando, da un lato gli darò la medicina, ma gli devo anche togliere la fonte dell'intossicazione. Non posso sperare che guarisca dandogli la medicina, ma continuando a lasciarlo drogare. Se prendi la droga ti do la disintossicazione, ma non ti droghi più. E qui invece non c'è il coraggio. Nel nostro settore, per esempio, per citare solo l'Italia, non c'è il coraggio di fare una legge contro il consumo di suolo. Quindi è vero, fai la politica di transizione ecologica, ma intanto le ruspe continuano a cementificarti il suolo al tasso di due metri quadrati al secondo. La vera transizione ecologica è fermo un'emorragia da una parte e poi faccio una cura nuova dall'altra. Bisogna avere veramente coraggio politico a mettersi contro una serie di rendite di posizione che oggi non hanno più possibilità di essere mantenute se vogliamo arrivare a questi obiettivi. E se si fa soltanto un certo greenwashing, mettendo un po' più di pannelli solari, non è sufficiente. Il tema della... Sai, forse al contempo non possiamo aspettare chissà quale norma che ci obblighi a fare chissà che cosa. Il livello, come dire, di sperimentazione, se dobbiamo aspettare la norma, ricordiamoci che l'Italia ha una legge urbanistica del 1947 a cui non è mai stato mai messo a mano. Le regioni, alcune regioni, hanno però, come dire, legiferato e hanno dato degli indirizzi di miglioramento. Sono poche però, sono a macchia di lopardo, un po' le regioni mitrofe a noi, la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, un po' la Toscana, la Sardegna, la Puglia, fine della trasmissione. Quindi c'è molto da fare e comunque anche in questi casi non sono completi i processi, ci sono molte contraddizioni, però il tema vero è quello di portare all'interno di tutto ciò che riguarda il governo del territorio e delle città questi temi. Perché di fatto tutto ciò che riguarda il governo delle città è in mano alle amministrazioni locali e ne hanno diretto, certo poi le amministrazioni locali bisogna metterle in grado di poter fare questo tipo di orientamento, questo tipo di transizione. Altrimenti il rischio è che di fatto devono solo gestirne gli impatti del cambiamento globale in atto senza avere poi gli strumenti di reazione. Non è solo una logica di gestione delle emergenze, è una gestione di gestione exame. Certo che deve essere progettata molto prima. L'emergenza purtroppo vai a togliere il fango e magari anche i cadaveri. Invece questa che dici tu è resilienza, è progettualità che parte molto prima, ma possibilmente in tempo di pace. Cioè si progetta bene quando si è tranquilli, sereni come oggi. Non progetti bene quando sei in emergenza e quando hai il danno già fatto. Non so se tu hai altre cose che vuoi comunicare subito, ma vista l'ora io proporrei anche di aprire le domande per curiosità o approfondimenti. Ah sì, ci sono anche domande che ci arrivano da chi è collegato in remoto, va bene. Ci sono scritte piccole, quindi accidenti. Sì, però intanto pensatele anche voi, così alterniamo. se ce n'è anche qualcuno della sala. Io comincio con la prima. Francesco inizia con qualcuno, poi vedo già una manonzata qui. In quale modo reputa realmente possibile intervenire sul clima per bloccare un ulteriore aumento globale della temperatura? È la domanda che si stanno ponendo tutti e che è stata ripetutamente posta a Glasgow, alla COP26. Ma la ricetta la conosciamo, bisogna diminuire le emissioni di gas effetto serra che sono in larga parte quelle dei combustibili fossili, ma non dimentichiamo che ci sono anche quelle legate all'uso dei suoli, ci sono anche le emissioni dell'agricoltura, le emissioni dell'allevamento, della deforestazione, quindi oltre al passaggio alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica per bruciare meno combustibili fossili, ci sarebbero anche delle scelte importanti su come gestiamo i territori, l'agricoltura. E il problema è che sappiamo benissimo quello che bisogna fare, ma il processo è lento per gli interessi economici di ciascun paese. Chiaro che l'Arabia Saudita non è molto contenta di questo, perché vende petrolio e la sua prosperità è basata sulla vendita del petrolio. L'India, come avete visto, ha detto io ho tanto carbone, devo fare uno sviluppo economico che dia da mangiare al mio miliardo di abitanti, uscirò dal carbone dopo il 2070, quando siamo già tutti arrostiti. C'è il problema della differenza tra paesi ricchi e poveri, i paesi ricchi hanno consumato prima e adesso vanno a fare la lezioncina a quelli poveri. A me va benissimo che la lezioncina si faccia, ma a questo punto dobbiamo dare noi il buon esempio. Gli Stati Uniti, per esempio, non sono certo in una buona posizione, perché le emissioni medie di un americano sono 18.000 kg di CO2, quelle di un italiano sono 7.000, quelle di un indiano sono 2.000. Allora, l'indiano dice caro americano, comincia a scendere da 18.000 a 10.000, poi torni qui e riparliamo dei miei 2.000. Capite la difficoltà di negoziato che c'è per le grandi disparità. Per cui il problema è come fare. Il come fare, a mio parere, è attribuendo un potere esecutivo alle Nazioni Unite. Infatti, connesso a questo, c'è anche una domanda. Ognuno decide quello che bisogna fare. Quanto è rallentato, c'è una domanda geopolitica, quanto è rallentato lo sforzo globale di ridurre le emissioni dalle resistenze di paesi come Cina e India. Ma più che altro io direi dalla resistenza dei paesi ricchi, perché i paesi ricchi non vogliono perdere nulla di quello che stanno facendo, credono di risolvere il problema solo aggiungendo tecnologia. Quindi, i paesi poveri con popolazioni molto numerose hanno le loro responsabilità che sono responsabilità recenti. La Cina è il maggiore inquinatore del mondo perché sono un miliardo e mezzo, ma solo da vent'anni contribuisce in questa maniera. Gli Stati Uniti contribuiscono da 150 anni alle emissioni che poi rimangono in atmosfera per secoli, quindi il riscaldamento è cumulativo. e poi abbiamo visto anche le differenze del pro capite che è quello che importa, perché i cinesi sono un miliardo e mezzo e gli americani sono 333 milioni. Dobbiamo mettere in prospettiva questi numeri, quindi siamo tutti che dobbiamo fare qualcosa, non è che c'è un... ci sono dei bravi e dei cattivi, dei bravi che stanno diventando cattivi recenti, dei cattivi storici che non vogliono fare i bravi, il problema è che bisogna tutti tirare un pochino il freno e questo è il concetto di cui nessuno vuole parlare, che è un po' di sobrietà anche, non si risolve solo con la tecnologia. Conviene maggiormente investire per adattare i territori ai cambiamenti climatici o tentare ancora di mitigare l'inquinamento? Tutto e due l'abbiamo detto, per una decina d'anni conviene anche investire per limitare, però intanto facciamo anche l'adattamento. Che lei sappia, nel territorio polesano tra molti anni potremo continuare a vivere normalmente nonostante l'innalzamento a medio livello del mare? Le opoli bonifica e le arginature potranno bastare a contrarre l'aumento previsto del livello del mare? Così tanto no, un metro probabilmente no, qualche decina di centimetri sì, chiaramente non dimentichiamo che tenere un grande consorzio di bonifica è eccellente perché i consorzi di bonifica qui che lavorano credo dagli anni 30 sono delle strutture di eccellenza, però serve energia per farli funzionare le idrovore non vanno a manovella vanno oggi a gasolio a gas domani speriamo sempre di più anche energia rinnovabile ma più si alza il livello del mare e più energia dovremo investire usare poi c'è un tema anche legato a eventuali dighe cioè l'Olanda purtroppo ci fa da maestra in questo senso l'Olanda nel piano nazionale piano delta il piano delta ha abbandonato la possibilità di proteggere con la stessa maniera tutti i territori costieri ha dovuto fare delle scelte l'ultimo piano pubblicato perché il piano dove ha convogliato tutte le risorse pubbliche di investimento per la gestione del territorio sull'area vasta alcune aree del paese sono state come dire date per esondabili o inondabili ma non in maniera permanente ma chiaramente chiaramente non aree abitate chiare a focazione prevalente agricola però qualche sacrificio bisogna farlo abbandonare quella visione degli anni 70 che ha sempre caratterizzato i Paesi Bassi della possibilità di costruire vighe sempre più forti per proteggere tutto adesso si è passate alla scelta che alcune aree possono essere considerate come aree buffer di parziale esondazione è un tema che un tema politico molto forte riguarda anche Londra Londra ha un tema importante di inondabilità per aumento del livello del mare sulla focce del Tamigi c'era anche una domanda qui così alterniamo un po' tra quelle che arrivano da fuori prego buonasera una curiosità pensando al nostro contesto locale nell'arco di questa generazione diciamo così delle persone come me quarantenni abbondanti insomma cosa dobbiamo aspettare slide a quale parte del pianeta attuale assomiglieremo nel corso della vita di una persona insomma della mia età vedevo un paragone con Caracci prima per le temperature direi purtroppo meteoclimatico sì sì per le temperature purtroppo gli scenari italiani nell'ipotesi peggiore nell'ipotesi del riscaldamento globale a 5 gradi sono per 8 gradi d'estate in più che per una zona come la pianura padana è pari al clima attuale del Pakistan dove i 50 gradi sono ormai un dato regolare che si tocca per alcuni giorni tutti gli anni avete visto passare l'immagine dei 48,8 gradi in Sicilia insomma lì sono zone abitate stiamo parlando di una città di medie dimensioni come Siracusa e siamo arrivati a sfiorare i 50 gradi adesso questo vuol dire che fra 10 20 50 anni questi numeri diventeranno purtroppo la norma e ne emergerà qualcuno nuovo più alto perché i record funzionano così i 48,8 diventeranno sostanzialmente frequenti e li abbiamo già conosciuti un certo punto un certo giorno il termometro segnerà 50 e tutti diremo wow guarda un numero mai visto prima però questa roba qui poi dopo va a toccare la nostra salute la progettazione le attività umane pensate all'agricoltura con 50 gradi non si va in campo muori stecchito forse puoi lavorare ma di notte quindi lo scenario della temperatura è questo poi c'è il problema della frequenza delle alluvioni prima o poi un nuovo polesine arriverà cioè sarebbe assurdo dirvi non potrà più capitare se le precipitazioni aumentano è solo una questione di combinazione di tempi di coerrivazione delle zone tra Alpi e Appennino che vanno in contemporaneità con le portate nel Po ma arriverà se è accaduto nel 51 a maggior ragione in futuro punto interrogativo ma un grosso episodio alluvionale a scala di Bacino capiterà e se questo si combina con una sciroccata e un'alta marea e il mare che spinge dall'Adriatico contro la foce senza arrivare le grandi alluvioni nel novembre 2019 gli impatti che ha avuto il sistema della pesca il sistema dell'acquacultura i vallicoltura del delta del Po sono stati fortissimi su queste cose il consiglio è prepariamoci come si dice non per catastrofismo questo è sbagliato bisogna guardare in faccia questi pericoli proprio per prevenirli nei limiti delle cose che possiamo fare per evitare prima di tutto la perdita di vite umane questo direi è il principio di base e se vogliamo anche il più facile da raggiungere con una buona preparazione con protezione civile con informazione le vittime si possono sempre evitare mentre sul danno ai beni e quello è più complicato alle infrastrutture e questo però se ci pensiamo prima si fanno quelle scelte che possono anche arrivare a sacrificare dei luoghi per proteggerne altri ma lo scenario qui è fatto di tre grandi criticità dell'aumento del livello del mare delle alluvioni da grandi piene di Po e delle temperature calde estive secondo lei qual è la prima cosa che può fare un comune per ridurre la propria impronta carbonica in parte l'abbiamo detto l'abbiamo detto questa mattina a Padova non abbiamo fatto altro che parlare dei piani di adattamento e di energia sostenibile dei comuni italiani ed europei sono dei piani che ci sono già da oltre credo quasi vent'anni mi sembra come tempi patto dei sindaci patto dei sindaci e sono si comincia dalla dalla diagnosi energetica del comune purtroppo fare adattamento è difficile se non abbiamo i dati della fotografia iniziale quindi la prima cosa che serve a un comune come a un cittadino come a casa propria è sapere quanto consumi e quanto stai sprecando solo da quel numero lì puoi decidere dove vado a tappare le falle o cosa cambio del mio sistema i piani sono stati gestiti in questo modo prima di tutto la diagnosi energetica del patrimonio comunale nei piani di solito si fa almeno il consumo e le emissioni per comune cioè dice tutti gli edifici comunali anche questo dove siamo quanto consumano quanto emettono quanta energia entra e quanto potrei risparmiare se facessi il cappotto se metti i pannelli solari quante macchine ha il comune come vanno sono a gasolio sono a benzina sono elettriche potrei trasformare delle automobili in un certo modo in un altro flusso di informazione posso mettere il telelavoro beh la pandemia ci ha dato una mano forse l'unica cosa positiva che ci ha dato è stata la confidenza con i metodi come quelli che stiamo usando adesso per chi ci ascolta da lontano ma devono diventare delle prassi queste non è che dove abbiamo visto che si può applicare vuol dire lasciare a casa delle persone a lavorare che non prendono più l'automobile al mattino a fare pendolarismo questo toglie tonnellate di CO2 perché tutta benzina è gasolio che non ne usiamo quindi direi si parte dalla diagnosi si fa la fotografia esattamente come per una diagnosi sanitaria uno non può fare una dieta se non sa quali sono i suoi valori sballati il medico ti dice il colesterolo è alto quindi mangi meno formaggio meno grassi per arrivare da quel numero lì a quell'altro e invece troppo spesso proprio a partire dall'amministrazione comunale questi numeri sono ignoti o difficili da reperire se si aderisce a questi programmi si parte invece dalla misurazione uno dei temi che stiamo dibattendo qui esattamente anche tutto il tema dell'open data della disponibilità dei dati dell'elaborazione di informazioni della messa a sistema dell'informazione perché al di là del problema clima il tema di base di avere dei dati su cui elaborare proposte e progetti diventa uno delle facciamo una piccola statistica chi è che sa quanti chilogrammi di CO2 emette in media ogni anno un italiano è un numero di base importantissimo perché è quello da cui dobbiamo partire per dire taglio da lì e devo scendere ecco l'avevo detto buona memoria molto spesso questo numero è sostanzialmente ignorato non è certo un numero stampato direi sui giornali nelle televisioni tutti i giorni mentre sappiamo più o meno tutto sul debito pubblico sui numeri monetari del paese conosciamo pochissimo su quello che è il nostro bilancio ambientale quello è il numero da cui partire ma se pensiamo che a Glasgow ci hanno detto che entro il 2030 per rimanere sotto i due gradi dovremmo tagliare il 45% delle emissioni rispetto ai livelli del 2010 che non sono molto diversi capite che tagliare il 45% di 7000 sono quasi la metà vuol dire uno sforzo mica da poco e poi noi tra l'altro come Italia dovremmo tagliare di più perché quella è la media mondiale all'Africa non puoi chiedere di tagliare perché già non hanno niente vuol dire che devono tagliare di più i paesi ricchi sviluppati c'è un'altra domanda che è arrivata online buonasera a tutti nel panorama europeo ci sono buoni esempi di progettazione urbana architettonica a scala vasta e locale da studiare con attenzione che vanno in una giusta direzione ma ce ne sono parecchi tra l'altro credo che questo sia un mio ex studente che chi fa la domanda uno bravo tra l'altro quindi in realtà ce ne sono molti sulla scala europea di esempi molte città si stanno attrezzando c'è un tema di buone pratiche con i limiti che hanno le buone pratiche perché le buone pratiche non sono semplicemente esportabili da un luogo all'altro ma il tema di base è il tema del quadro conoscitivo che ponevi tu l'informazione noi da un po' di anni stiamo lavorando sulla costruzione di atlanti che servono anche a lavorare sull'adattamento perché mentre la mitigazione può lavorare su stime tu se sai quando è stato costruito un edificio in base alle regole ai materiali costruttivi sei in grado di stimare l'equivalenza in termini di emissioni di CO2 sulla base media del consumo energetico con l'adattamento questo è molto più complicato perché tu hai bisogno di sapere esattamente dov'è maggiormente il rischio all'interno di una città piuttosto che nella stessa città da una parte all'altra chiaramente per progettare l'adattamento hai bisogno di queste informazioni che non sono di dominio pubblico allo stato attuale cominciano a essere costruiti dei quadri di analisi anche con l'uso avanzato di big data di sistemi di teleleveramento che però non sono come dire non sono banca dati pubblica sono banche dati settoriali promosse da alcuni enti che in questi anni hanno cercato di lavorare in questa direzione ci sono anche un'altra serie di domande si parla molto da cambiamento climatico fino a ora in che modo di modelli ci hanno azzeccato rispetto a come avremmo dovuto essere nel 2021 ci hanno molto azzeccato direi che i modelli di cui abbiamo parlato premiati dal Nobel per la fisica di quest'anno hanno sostanzialmente visto giusto l'ordine di grandezza di aumento di temperatura per un raddoppio della concentrazione di CO2 al quale ci stiamo avvicinando e direi che quindi ci sono enormi conferme di affidabilità degli scenari che erano stati visti correttamente già 50 anni fa e poi affinati sempre di più con i nuovi dati arrivati dai satelliti dalla conoscenza degli oceani che era un tassello mancante oggi sempre di più nello scenario di evoluzione climatica non bisogna occuparsi soltanto dell'atmosfera ma anche degli oceani che sono il grande sistema con una elevatissima inerzia che all'inizio assorbe parte dell'energia del maggiore effetto serra ma ahimè dopo ce la restituirà con gli interessi ho visto anche una mano alzata laggiù allora volevo chiedere un attimo adesso stiamo continuando a parlare di si sente non si sente io di anni ne ho parecchi ormai e le cose che stiamo dicendo che stiamo sentendo cose molto belle cose delle quali ormai siamo siamo certi e per fortuna la certezza di cui mi state parlando è scientifica dimostrabile quindi non è neanche più contestabile però questi dati queste cose già le dicevano quando io andavo a scuola quindi ricordo che già alle elementari ancora con la vecchia festa degli alberi ok veniva consegnato un albero perché il clima sta cambiando e il resto io sto continuando a partecipare a degli eventi come questo ai quali prendono parte gli agricoltori ai quali prendono parte i consorzi di bonifica che fanno degli eccellenti lavori e mi sembra che tutti quanti come conclusione abbiano quella la quale state proponendo anche voi della mancanza degli studi mancanza di approfondimenti mancanza di dati quindi tutti a studiare tutti a far dati tutti a dare dati utilizzabili e leggibili da chiunque ma ora della fine concretamente stiamo continuando a sentire l'associazione degli agricoltori che dice che dobbiamo fare i fossi e mi pare che non ce ne siano più tanti sentiamo l'associazione del consorzio di bonifica che dice dobbiamo piantare gli alberi lungo i fossi perché così l'assorbimento idrico e tutto il resto delle cose ma queste rimangono attualmente parole sono 40 anni che continuiamo a fare questo allora io mi aspetterei e quello che vorrei che probabilmente sta già facendo ma non è evidentemente così che un progettista che un paesaggista lavori su queste cose perché stiamo anche a Rovigo stiamo continuando a tagliare alberi il privato sta continuando a tirar via gli alberi dei giardini il pubblico sta continuando a dirmi da una parte che devo essere bravo a eliminare la CO2 dall'altra continui a fare esattamente il contrario allora a me sta bene tutta la gente che continua a chiedere dati che continua a volere informazioni ma ora della fine non cambiano le cose sono 50 anni 60 anni queste robe qua già le facevano quando Londra la famosa famoso fumo di Londra già avevano capito quando si bruciava il carbone nelle stufe che andava così e siamo ancora qua oggi che tra virgolette ce le raccontiamo gli architetti già nel 60 avevano fatto le vasche per la raccolta dell'acqua sotto Venezia è nata con le vasche di raccolta dell'acqua interna e oggi siamo qua che sempre discutiamo più o meno della stessa cosa quindi la mia non vuole essere una e siamo catastrofici ma vorrei andare via questa sera con qualche indicazione perché tutti quanti siano i cittadini banali e le istituzioni che voi in qualche modo mi rappresentate delle indicazioni concrete non prendiamocela con l'India con l'America con delle cose grandi ma che cosa concretamente possiamo e sarebbe il caso di fare ognuno nel proprio l'unione di tanti piccoli probabilmente farebbe qualcosa di un po' più grande riprendiamo allora l'elenco delle cose da fare che in parte abbiamo già iniziato a manifestare prima se mi rimettete le slide cominciamo proprio dalla casa lei ha i pannelli solari lei ha i pannelli solari eh non sento ah li sta insaldando solo fotovoltaico solo termico tutte e due entrambi benissimo questa è una cosa che chiunque ha un tetto esposto a sud può e deve fare questo è il mio tetto per esempio fotovoltaico termico poi riqualificazione energetica con tutti i mezzi possibili cappotti alle pareti vetri doppi vetri tripli basso emissivi tutto quello che serve per tagliare il nostro spreco energetico con delle attività di riqualificazione che riescono a togliere fino al 90% del nostro consumo energetico e tanto solo riqualificando ovviamente quando si costruisce dal nuovo si può arrivare alla casa passiva che non ha nemmeno necessità di un apporto energetico esterno poi il secondo settore è quello del dei trasporti queste sono cose che piace meno sentirsi dire in particolare non usare più l'aereo l'aereo contribuisce nei paesi ricchi con un solo volo intercontinentale all'anno a un terzo delle emissioni di quei 7000 chili ne fai tranquillamente 2000 andando una settimana a New York o alle Maldive per cui non dovremmo più volare se non in casi eccezionali queste sono cose che non piace sentire a nessuno io personalmente non volo più da 4 anni già volavo poco prima ma adesso semplicemente se mi viene proposto un viaggio aereo salvo che per ragioni di vita o di morte io non volo più usiamo molto di più il telelavoro l'altra cosa il menù di questa sera se è un menù con molta carne contribuirà per almeno il 15% alle emissioni globali se è un menù a prevalenza vegetariana risolve un pezzo di problema quindi anche questa è una cosa che possiamo fare senza che sia Biden o Putin a decidere è una scelta sua che cosa mettere nel suo piatto ovviamente meno carne mangiamo e meno emissioni avremo meno cibo industriale che arriva dai quattro angoli del pianeta meno saranno le emissioni dei trasporti che vengono accumulate dentro l'oggetto che consumiamo e così anche per tutti gli altri consumi gli oggetti le mode i materiali adesso è quasi Natale quante cazzate compreremo che si trasformeranno in rifiuto dopo poche ore che abbiamo scartato il pacco riflettiamo questa è la parte di manovra che è nelle nostre mani e io la stimo in circa il 50% del problema l'altro 50% sono le grandi decisioni istituzionali partendo da una politica locale di un comune per arrivare a quella nazionale a quella comunitaria a quella internazionale che però è sempre un pochino in parte nelle nostre mani nella cabina elettorale più difficile perché bisognerebbe anche avere dei programmi precisi da votare però il nostro margine di manovra almeno nei paesi democratici è poi quello lì mettendo insieme tutte queste scelte si potrebbe ancora arrivare a stare nei due gradi ognuno di voi si interroghi se queste cose le sta già facendo o se potrà farle domani così avete avuto la parte di predica più quella più scomoda è sicuramente vero che molte delle soluzioni le sappiamo le conosciamo già da decenni è verissimo questo il tema vero attuale è quello di mettere la sistema in sistemi di monitoraggio che possano misurare davvero gli effetti di quelle soluzioni non si inventa niente sull'adattamento non si inventa niente sull'adattamento ma esistono ormai in gran parte delle città europee c'era l'assessore Merlo che voleva intervenire buonasera io sono stata un po' sollecitata dall'intervento ultimo del nostro concittadino e volevo un po' innanzitutto fare una premessa sul fatto che come si diceva prima questi impegni non sono diciamo basati su delle normative stringenti quindi si basano molto spesso sulla buona volontà delle amministrazioni e non va bene perché non sempre le amministrazioni hanno buona volontà quindi ci vorrebbe un passaggio normativo più stringente e questo è fondamentale lo abbiamo visto a Glasgow però quello che stiamo facendo allora noi come amministrazione perché nel 2008 come diceva Francesco a Rovigo c'è stato un importante incontro di sindaci c'è stata c'era diciamo così un'azione un movimento su questi temi sui temi del patto dei sindaci che era molto importante e eravamo abbastanza diciamo all'avanguardia negli ultimi anni c'è stato un po' un abbandono di queste tematiche cosa abbiamo ripreso a fare la ricognizione di tutti i consumi energetici noi stiamo rifacendo la revisione del PAESC del piano per l'energia sostenibile del clima quindi allo stato attuale è stata fatta una revisione totale di questo piano che era diciamo ormai datato e anche poco diciamo aggiornato e quindi abbiamo tutta la parte di ricognizione completa stiamo nella fase di proporre delle azioni di sostenibilità quindi delle azioni per ridurre le emissioni di CO2 quindi stiamo procedendo e nel giro di un paio di mesi o non oltre saremo in grado di proporre un PAESC intercomunale con altri quattro comuni a noi vicini abbiamo aderito alla rete nazionale dei comuni sostenibili e quindi abbiamo diciamo preso questi obiettivi di Agenda 2030 come obiettivi verso i quali noi dobbiamo produrre delle azioni e siamo in una rete in cui abbiamo accettato di essere monitorati e valutati per quanto faremo nei prossimi anni quindi ci siamo diciamo così auto siamo in una fase di autovalutazione abbiamo accettato questa sfida insieme ad altri comuni a livello nazionale e questo farà sì che nel prossimo non quest'anno ma nel prossimo documento di programmazione finanziaria ci siano anche quelle che sono le nostre azioni e i nostri impegni in termini ambientali quindi questo diventerà anche un impegno ambientale inoltre in questa fase stiamo rivedendo tutta la pianificazione urbanistica e la pianificazione del traffico e il piano della ciclabilità e anche io aggiungo il piano un piano complessivo del verde tutto questo si va a collegare e coordinare naturalmente è un lavoro che richiede un po' di tempo un po' di mesi richiederà speriamo ma porterà alla fine ad avere una pianificazione complessiva coordinata e improntata sugli obiettivi di agenda 2030 quindi questo in termini pianificatori in termini concreti stiamo piantando alberi abbiamo una serie di progetti abbiamo anche delle sponsorizzazioni e dei supporti da parte di privati quindi c'è un disegno complessivo di voler aumentare quella che è anche l'area verde della città e io aggiungo un'ultima stimolazione che per ridurre le isole del calore forse bisogna ridurre la densificazione delle nostre città e quindi bisogna anche accettare il fatto che la pianificazione urbanistica della città preveda anche spazi pieni spazi vuoti quindi rivedere un modello complessivo per cercare di mitigare quelle che sono le azioni climatiche scusate non volevo solo dare un aggiornamento ma anche in funzione del fatto che lentamente e faticosamente stiamo cercando di lavorare in questa direzione grazie mi permetta di leggere una domanda che arriva dal pubblico è possibile da facebook chiedono buonasera quali sono le prospettive dell'agricoltura nel nostro territorio considerando l'innalzamento del livello del mare in parte abbiamo menzionato il livello del mare che si alza comincia ad influire sull'agricoltura con l'acqua salata nella falda è il primo avviso rendendo la salmastra non puoi più coltivare le stesse cose che facevi prima per un po' si può intervenire utilizzando delle colture che tollerano un po' di salinità ma via via che questa aumenta porta poi fuori dalla possibilità di fare agricoltura territori sempre più vasti dall'altro lato ci sono i problemi invece che investono tutte le zone indipendentemente dall'aumento del mare che sono le possibili siccità che di area vasta possono interessare l'intero bacino padano il po' può ridursi a un rigagnolo nei mesi estivi c'è l'aumento dei fenomeni estremi che ovviamente se la grandine per dire aumenta di frequenza distrugge le colture e complessivamente sullo scenario di fine secolo abbiamo visto che la pianura padana in una situazione di mancato intervento di mitigazione può trasformarsi in un'area sostanzialmente tropicale ma più vicina alla desertificazione che ha una foresta pluviale il rischio di avere la siccità prolungata di 2-3 mesi d'estate con temperature di 45-50 gradi è quella di una zona a bassissimi rendimenti agricoli e quindi pensate a quello che può significare per le nostre produzioni di eccellenza in pianura padana e anche per la nostra sussistenza saremo costretti a comprare altrove quello che non saremo più in grado di produrre noi anche turandosi il naso però è un'ipotesi che alcuni già ritirano fuori secondo voi il ruolo del nucleare? intanto abbiamo tanti nucleari si parla in genere del nucleare a fissione che è quello dell'uranio che è un po' arrivato al suo capolinea qualcuno lo vuole riesumare ma ci sono tre problemi irrisolti che nessuno mi ha spiegato come potrebbero essere risolti e sono i costi enormi della costruzione perché con i nuovi criteri di sicurezza hanno portato queste centrali fuori mercato basta vedere le due centrali europee Flamanville e Oikiluoto in Finlandia hanno dei piani economici che sono ormai completamente usciti da quello che era stato previsto quando furono progettate e non sono ancora in servizio i rischi di incidente pur limitati all'aumentare del numero di centrali aumenta statisticamente quindi anche questo è un rischio che per qualcuno è ritenuto poco accettabile e poi il problema del decommissioning e delle scorie decommissioning vuol dire altri enormi costi per smontare le centrali quando hanno finito la loro vita utile con tutto il problema di ritornare come si dice a Prato Verde solo per le centrali italiane vi cito il caso di Trino Vercellese perché io sono piemontese sono 250 milioni di euro spesi per ora e siamo a metà dell'opera e da 20 anni ormai più di 20 anni di cantiere per smontare la piccola centrale nucleare di Trino e prima che si arrivi al Prato Verde non so quanto si spenderà ma se tanto mi da tanto forse un altro 250 milioni un mezzo miliardo per smontare questa centrale e il problema delle scorie è qualcosa che andiamo a consegnare tra l'altro le generazioni future per decine di migliaia di anni perché i depositi di scorie nucleare hanno tempi di custodia di questa lunghezza temporale io mi sento in colpa a consegnare ai nipoti i costi della custodia di questo materiale pericoloso che non darà però alcun vantaggio a loro per cui la mia opinione è che sul nucleare a fissione chi ce l'ha se lo porti a fine vita chi non ce l'ha è del tutto inutile riprendere questo cammino poi c'è un nucleare cosiddetto pulito che secondo me è un po' uno simoro di nuove centrali a fissione con minori rischi e dimensioni più piccole io non ci credo personalmente perché non ci sono ancora è un'ipotesi mi preoccupa molto la taglia piccola cioè se è già difficile controllare la filiera nucleare statale dei grandi gruppi di produzione di energia statale che però almeno pur tra certe opacità seguono delle normative ben precise ma vi rendete conto di che cosa sarebbe un nucleare a piccola scala privato dove una piccola fabbrica un'industria un comune mette su una centrale nucleare moltiplicheremo a dismisura i punti di pericolosità con tutto quello che succede nella nella quantità enorme di imprevisti delle vite umane i fallimenti cioè cosa facciamo non è che se fallisce un campo di pannelli solari non succede niente sarà brutto da vedere ma non non uccide nessuno se fallisce un gestore di una piccola centrale nucleare cosa facciamo questa roba qui dove la mettiamo chi se ne occupa chi prende in carico il reattore scottante che ti sta bruciando in mano cioè io mi porrei tutto il problema delle scorie delle problematiche economiche di durata non lo so mi sembra veramente giocare col fuoco e poi c'è il nucleare a fusione questo invece è un corretto investimento di ricerca scientifica non è più fissione ma stiamo parlando invece di prendere due atomi leggeri due isotopi dell'idrogeno per fare l'elio quello che succede nel sole l'esperimento più grosso attualmente è in Provenza a Cadarash il progetto ITER tra due anni e mezzo mi sembra dovrebbero fare l'accensione sperimentale iniziale di forse pochi secondi o un minuto si vedrà se funziona se funzionerà ci sono poi ancora decine d'anni prima che questa produzione di energia diventi commerciale allora quella è giusto investire ma non è compatibile con i tempi brevi che incalzano come rischio climatico quindi la fusione la mettiamo lì come grandi speranze per il futuro ma nel frattempo dati i pochi anni che abbiamo davanti il problema si risolve con le energie rinnovabili che già abbiamo e con tanto risparmio e tanta efficienza quello che non si vuole capire è la parola sobrietà bisogna anche cominciare a togliere un po' di roba almeno nei paesi ricchi occidentali non soltanto ad aggiungere se parliamo di città l'illuminazione pubblica basta mettere nuove luci spegniamone anche qualcuna spegnere questa parola ci vuole il superfluo ovviamente che in questi anni ha preso il sopravvento ma quanti parcheggi fanno luce alle lumache disturbandole basta cioè va bene sostituire con led che consuma di meno della lampada ai vapore di sodio o di mercurio ma non è una logica ancora praticabile per molto bisogna cominciare anche a riflettere su che cosa è superfluo e su che cosa è necessario io volevo chiedere a proposito di tecnologie alternative se l'idrogeno è già pronto per sostituirsi alle fonti fossili perché per esempio so che ci sono acciaieri in Germania che vanno già a idrogeno e poi volevo fare anche una considerazione anziché raggiungere degli accordi internazionali sul clima che alla fine portano a dei compromessi molto complessi e che portano appunto a poco avrebbe più senso forse che i paesi occidentali che già sono consumatori storici cominciassero loro in grossi gruppi a sperimentare quanto cercano di portare in questi tavoli di contrattazione in modo tale da dare buon esempio e anche cominciare a sperimentare una strada possibile che potrebbero poi intraprendere anche altri paesi ma questo per fortuna già si fa come ho detto non è che non abbiamo le soluzioni le soluzioni ci sono le conosciamo il problema è la loro applicazione su vasta scala e in modo coerente cioè manca la coerenza noi facciamo un po' tutto il contrario di tutto vogliamo tenere il piede in tante scarpe se ci fosse la coerenza allora saremo in una posizione migliore per diffondere anche verso i paesi poveri una visione accettabile di sobrietà di dignità umana ma dove intanto si siano tagliati gli sprechi oggi abbiamo fatto l'esempio dei negozi con le porte aperte adesso che è Natale di tutti gli aperitivi con la stufetta nel marciapiede per prendere l'aperitivo ecco il paese occidentale non può più permettersi di fare la lezione all'India e poi accendere la bombola del gas sul marciapiede perché quella è l'anidride carbonica fatta per buttata via per nulla per un capriccio ora sono numeri piccoli ma è un simbolo finché non entra nella nostra testa che ci sono dei comportamenti ingiustificabili quando vai a fare lezione agli altri penso a certi cibi per gatti insomma abbiamo un miliardo di persone che muore di fame quei paesi lì che guardano la nostra televisione e vedono che il gatto o il cane mangia meglio di loro è chiaro che pone un conflitto giustificato tra questi paesi invece per quanto riguarda l'idrogeno vi ricordo che l'idrogeno non è una fonte di energia che sostituisce il fossile l'idrogeno è solo un vettore energetico cioè non c'è il giacimento di idrogeno l'idrogeno lo devi fare lo devi produrre per trasportare quell'energia che è abbondante in certi momenti ed è scarsa in altri i pannelli solari a quest'ora non producono a casa mia ho guardato la mia app poco fa oggi c'era il sole perché io arrivo dalle alpi occidentali e oggi non pioveva ho prodotto 10 kilowattora sul mio tetto adesso però è buio dove sono quei 10 kilowattora che a mezzogiorno erano anche eccessivi rispetto a quello che consumava il mio frigorifero sono andati in rete ma io ne ho bisogno adesso per accendere la luce ecco manca oggi la possibilità di stoccare l'energia rinnovabile eolico e fotovoltaico sono intermittenti io dovrei poterli mettere da parte quando sono abbondanti a mezzogiorno di una bella giornata di solo oppure a luglio per usarli d'inverno e non ho il mezzo per metterli da parte questo mezzo potrebbe essere l'idrogeno prendo l'energia quando abbondante separo la molecola dell'acqua in ossigeno e idrogeno mi metto da parte l'idrogeno e lo riuso quando mi serve il problema è che è esplosivo e ha una serie di problemi ingegneristici non risolti quindi è una pista promettente ma non ancora utilizzabile su una scala commerciale domestica quindi bisogna ancora lavorarci sopra nel frattempo e l'anello mancante per permettere alle energie rinnovabili di soddisfare tutte le nostre necessità a livello stagionale e a livello orario questo è ciò che ci manca buonasera grazie per questo bell'incontro io vengo dall'altra sponda dal ferrarese e penso quindi che non siamo molto diversi Ferrara tra l'altro è uno degli hotspot italiani per la temperatura ma immagino che Rovigolo sia altrettanto volevo chiedere sia al dottor Mercalli sia a Francesco che è un caro amico e collega a Ferrara stiamo in pochi avanzando alcune idee siamo un po' presi per matti ma stiamo avanzando sulla parte del delta e sulla base dei dati storici antichi cioè alla fine del settecento quasi il 40% della provincia di Ferrara era coperto dall'acqua le valli di Comacchio erano 40.000 ettari più o meno oggi ne sono rimasti 11.000 che è il motivo anche della scomparsa dell'anguilla eccetera eccetera e comunque gli scenari non sono affatto positivi nel prossimo futuro 30 anni fa la produzione di riso a Ferrara era terribile era un riso cattivissimo scusate era un riso cattivissimo oggi è un riso ottimo come anche i risicoltori del Polesine stanno facendo un riso ottimo molto spesso si battono i veronesi di isolare la scala eccetera quanto è ragionevole pensare che alcune porzioni l'ultima bonifica è stata fatta nel vostro delta nel 72 poi per fortuna hanno finito quanto è ragionevole pensare di riportare l'acqua di produrre acqua perché non ci sarà acqua produrre acqua salmastra dolce eccetera laddove oggi si produce grano gran turco è vero ci sono anche gli asparagi hanno alto valore aggiunto ma l'acqua fra 30 anni sarà un bene prezioso e qui c'era però il problema è che sarà acqua salata quello è il problema quindi di acqua salata ne abbiamo in abbondanza ce l'hanno tutti tutti quelli che sono affacciati su una costa hanno acqua salata e ci serve a poco quindi il tema è quell'acqua che c'era nel 700 era l'acqua di una zona umida acquitrinosa ma con un mare più basso adesso abbiamo il problema che dopo la bonifica l'acqua in una prima fase semplicemente si riprende un territorio che aveva già secoli prima ma dopo supera i livelli storici a quel punto però va a toccare le zone abitate non è più solo un problema di gestione agricola finché l'acqua non è a salmastra va benissimo andare a cambiare metodologie scelte agronomiche soprattutto sulle culture annuali non è un problema la cultura annuale reagisce in fretta io posso fare una scelta da un anno all'altro reversibile chiaro che sui fruttetti le cose sono già diverse un fruttetto ha un ciclo culturale di 10 di 20 anni se scelgo oggi di impiantare meli o peri dopo sono costi che devo affrontare per cambiare rapidamente le scelte culturali comunque mi sembra ancora il problema più gestibile questo perché eventualmente non so coltiveremo alghe qualche cosa ci inventeremo per usare questo tipo di territori a metà tra l'acqua e la terra il problema è la sicurezza dell'urbanizzato lì è diverso lì ti entra il mare in cantina prima e poi in salotto complimenti intanto per questo per questo incontro che è estremamente interessante io sono diciamo ecologista nel senso che utilizzo quelle energie alternative sia in casa sia con la macchina e tutto però mi chiedo perché c'è questa spinta estrema all'elettrico quando ci sono molte altre energie alternative cioè fonti rinnovabili energie alternative mi spiego il carbone mi pare che sia il combustibile più che inquina di più certo secondo secondo ci sarà il petrolio immagino terzo il metano ecco io io dico ma perché non usiamo cioè passiamo dal carbone al metano prima di passare poi questo si sta già facendo ma purtroppo il metano è sempre fossile quindi abbassa di un pochino ma non è la soluzione può essere un ponte ma mentre bisogna drammaticamente accelerare sulle rinnovabili vere perché il solare l'eolico il biogas in piccole quantità perché non ne abbiamo così tanto le maree in qualche posto del mondo dove si possono fare si sta studiando le correnti oceaniche per produrre qualcos'altro queste sono le rinnovabili a zero emissioni il metano è a emissioni perché è fossile il metano non c'è niente da fare quindi è una soluzione che già oggi in Europa viene portata avanti ma perfino troppo perché poi diventa un alibi ah ho spento il carbone abbiamo messo il metano sì va bene ma ti sei guadagnato un anno di vita non è che hai risolto il problema se con il carbone inquinavi 10 con il metano inquinerai 8 ma sempre fossile non dimentichiamolo e poi abbiamo il problema delle fughe di metano nessuno parla del metano allo stato puro che va in atmosfera che ha un potere riscaldante tra 20 e 80 volte da una singola molecola di CO2 quindi più metanizziamo più abbiamo perdite dal sistema di distribuzione e quelle perdite lì vanno in atmosfera con un'azione riscaldante molto superiore a quella della CO2 che hanno evitato di emettere bruciando al posto del petrolio e del carbone quindi di fatto la soluzione è togliersi dal fossile e ci vorranno comunque decenni non è una roba che si fa in una notte per cui a manetta pannelli solari paleoliche e efficienza ovviamente e tappare i buchi sono le vere soluzioni a lungo termine sì sì sono d'accordo a lungo termine sicuramente però mi chiedo se tutti domani comprano una macchina elettrica che è questa spinta che abbiamo di passare all'elettrico quante colonnine ci vogliono quante energie ci vuole e ovviamente è un tema allora intanto la macchina elettrica sappiamo tutti che la penetrazione sul mercato della macchina elettrica comunque avrà come minimo 20 anni non è una cosa che si fa in un attimo e in questi anni in parallelo la rete sta aumentando la sua componente rinnovabile attualmente sulla rete elettrica italiana il 34% è già tutto rinnovabile che è un valore di tutto rispetto siamo tra i paesi migliori al mondo grazie all'idro elettrico storico perché il 17% è fatto grazie alle dighe che sono state costruite dagli anni 20 e gli anni 50 dell'altro circa altro 17 più o meno sono le rinnovabili nuove cioè eolico fotovoltaico e biogas e un po' di legna anche che viene usata storicamente nelle nostre regioni ora questo pacchetto di rinnovabili con il nuovo fotovoltaico e il nuovo eolico è in crescita potrebbe crescere molto più rapidamente ma il limite è dato proprio dallo stoccaggio dell'energia sulla rete se aumento troppo le energie intermittenti creo il blackout allora verosimilmente dal 34% di oggi ad arrivare fino al 40 45 c'è ancora uno spazio senza destabilizzare la rete ma dopo o troviamo il modo di avere lo stoccaggio di energia o rischiamo il blackout cioè devi sempre tenerti la centrale elettrica a metano accesa si chiama in riserva calda perché se passa una nuvola sugli impianti fotovoltaici improvvisamente c'è il blackout e quello sarà forse l'idrogeno punto interrogativo qualcuno spinge per il nucleare apposta per risolvere quel problema lì dicono le centrali nucleari così abbiamo sempre il backup per le energie fluttuanti la macchina elettrica non fa altro che trasformare gasolio e benzina in elettricità se dobbiamo costruire la centrale a carbone per alimentare l'auto elettrica è una stupidaggine ma se come sta succedendo sulle reti elettriche di tutto il mondo la percentuale di rinnovabile aumenta allora ha senso assolutamente far aumentare di conseguenza anche le auto elettriche e le pompe di calore perché è più facile perché comunque è più facile elettrificare tutto e anche le colonnine ormai sono decine di migliaia e ogni giorno ce n'è una nuova in più io guido auto elettrica da dieci anni quindi mi reputo so di cosa parlo e non sono mai rimasto a piedi in dieci anni e ho caricato la macchina prevalentemente con i miei pannelli fotovoltaici usando quindi un'energia a emissioni totalmente zero e quelle poche volte che l'ho caricata sulla rete ho usato comunque il 34% di un'energia già rinnovabile che è in crescita che è in crescita numeri a raggiungere quel livello è chiaro che diventa un punto di riferimento perché quello che ha detto 10 kilowatt è molto interessante è importante avere le unità di misura giuste l'impianto è da 6 kilowatt e la produzione oggi che è quasi inverno è stata 10 kilowattora ecco lei però ha uno scambio sul posto sì per ora sì nell'ambito pubblico è possibile avere lo scambio sul posto altrove sì adesso poi ci sono anche le comunità energetiche abbiamo tutte le opportunità che si vogliono ecco noi ci troviamo però con un problema che dobbiamo a livello domestico di acquistare batterie per conservare quell'energia e utilizzarla durante la notte basterebbe forse ed è una domanda sollecitare un cambio di normativa perché la vera la vera batteria potrebbe essere il gestore e non dovrei aver bisogno di batterie all'interno delle mie case per stoccare in realtà non è così non è così perché il gestore non può il gestore intanto Terna sta già facendo investimenti in batterie per bilanciare i carichi intermittenti solo che non possiamo costruire delle batterie giganti da migliaia di tonnellate perché poi perdiamo nel trasporto di energia cioè il senso della comunità energetica è usare l'energia il più possibile sul posto dove viene prodotta o vicino al posto questo perché via via che i miei pannelli trasmettono quell'energia sulla rete io come minimo ne perdo il 7% sul trasporto per resistenza nei cavi più la uso invece a livello immediato nel mio frigorifero nella mia macchina di giorno certo abbiamo detto che però a livello di notte possiamo stoccarne piccole quantità io ce l'ho la batteria di cui lei parla è una batteria da 4 kilowattora mi serve per il circadiano la giornata la notte se dovessi però avere una batteria che mi permette lo stagionale è impossibile cioè il grosso la sfida è lo stagionale non è la notte e mettere da parte l'energia a luglio quando faccio il mio impianto ne fa 50 di kilowattora a luglio adesso ne fa 10 in una giornata di sole se io avessi quei 40 di esubero di luglio li potrei usare in una fredda e buia giornata invernale questa è la sfida dell'idrogeno perché l'idrogeno una volta che l'ha fatto lo può mettere in una cisterna in un serbatoio e tenerselo lì anche per due anni esattamente come facciamo con il gas o con il gasolio ma l'idrogeno ha una serie di problematiche che è molto esplosivo molecola piccola sfugge dalle guarnizioni sono quelli i problemi ingegneristici che non sono stati risolti ma che speriamo possano essere risolti perché la pista c'è non è il fatto che non funzioni la fusione nucleare non ce l'abbiamo è un'ipotesi sulla carta è sperimentale l'idrogeno c'è già c'è perfino l'automobile a idrogeno la Toyota Mirai nessuno giustamente la compra perché costa un fracco di soldi è poco efficiente non ci sono i distributori di idrogeno però l'hanno fatta come tutte le cose e come il telefonino 30 anni fa il telefonino era un mattone con una valigetta che pesava 6 kg e ce l'aveva il presidente del consiglio oggi ne abbiamo 3 in tasca quindi la mia piccola speranza è che sull'idrogeno mettendoci adesso un bel po' di soldi il PNRR ne mette si possano risolvere quei colli di bottiglia che potrebbero far diventare l'idrogeno lo stabilizzatore ma la parte della sua domanda che a me interessa di più è quella che vorrei sfatare che occorrono tanti soldi per fare la riqualificazione energetica la risposta è che abbiamo fatto gli ecobonus apposta per questo l'ecobonus è la disposizione di governo per rendere la riqualificazione energetica accessibile a chiunque anche a chi non ha un solo quattrino perché c'è la cessione del credito alla ditta che fa i lavori questo viene fatto apposta perché se anche non ho i soldi da anticipare è l'azienda che mi fa è l'impresa che mi fa i lavori che incasserà il credito dallo Stato e io il famoso 100 o 110% 110 se anticipo io lo Stato mi dà addirittura il 10% in più ma se io non ho i soldi è il 100% non mi viene dato il 10 ma mi viene dato il fatto che io non pago niente queste sono disposizioni importanti non nascondiamoci sempre dietro al fatto che queste sono cose da ricchi non è vero balle oltretutto ha usato la parola giusta sono investimenti quanto invece è un investimento comprarsi il SUV eppure è pieno lì fuori il SUV lo compri spendi in qualche caso anche 100.000 euro dal momento in cui hai firmato l'atto di acquisto vale già il 30% in meno e poi ti mangerà benzina nella tua vita diventa un costo e basta quel lavoro lì ti fa poi vivere meglio dopo sia come comfort ma anche ti mette al riparo da tutti gli aumenti dell'energia in futuro diventi autonomo diventi autosufficiente questa è la vera resilienza la cosa bella dell'architettura è che è l'unico settore della resilienza climatica cosiddetto win-win vincono tutti ci guadagniamo tutti meno chi vende l'energia fossile è l'unico che perde mentre dirle di volare di meno è una scelta è un sacrificio magari lei vuole andare a farsi le vacanze a Tokyo e quindi se io le dico sarebbe meglio che vada in un agriturismo dell'Appennino è una rinuncia per me potrà avere un significato modesto per lei più alto io le chiedo di fare una rinuncia stasera invece di mangiarsi la bistecca alla fiorentina si mangia un soufflé di broccoli potrebbe essere una rinuncia nella casa non è rinuncia è tutto guadagno investo pago un po' di soldi prima ma consumerò il 90% di meno per tutta la vita della casa quindi si rivaluta l'immobile sta meglio dentro come comfort e in più non inquina per i suoi figli e nipoti è l'unico settore dove abbiamo tutti i vantaggi eppure neanche lì si fa a sprombattuto come dovremmo si fa ma lo fa una piccola parte della popolazione mentre dovrebbe essere estensivo non so se l'ho già detto stasera l'ho detto stamattina di Parisi che ha detto io non vedo sui tetti di Roma gli operai che installano pannelli solari vedo più piscine che pannelli solari dai ancora una 8-5 poi vi lasciamo andare a mangiare la bistecca alla fiorentina non minestrone buonasera mi è piaciuto che lei abbia richiamato nipoti adesso non so se lei li abbia davvero però ci sono alcuni aspetti di clima che mi stanno inquietando non a livello personale perché la mia vita è quella che è sta andando calando ma proprio perché tutti noi siamo qui probabilmente perché dobbiamo conservare un mondo e darlo ai nostri nipoti e al mio pronipote che sta iniziando a camminare adesso i tre aspetti inquietanti che mi inquietano sono l'annerimento dei ghiacci quindi un'accelerazione dello sciolimento secondo l'acidificazione dei mari che incambrano l'anidride carbonica e il terzo che mi inquieta di più è l'osciolimento del permafrost che sembra secondo me che si sia creata una macchina infernale da stile film americano hollywoodiano che si sta autoalimentando cioè l'anidride carbonica metano conseguente si olimento e abbiamo una stima di quanto possa essere ci dobbiamo altro che stasera non potevamo parlare di tutto come vedete i temi ambientali coprono qualsiasi settore della nostra vita potevamo aprire anche un tema sui cosiddetti tipping points cioè i punti di non ritorno e in natura abbiamo un sacco di queste trappole dei trabocchetti che si autoalimentano se usciamo da certe soglie dopo abbiamo dei processi che vanno avanti per conto loro il permafrost è uno di questi il permafrost si sta già degradando in Siberia in Canada dentro il permafrost c'è un sacco di sostanza organica accumulata da milioni di anni dalle glaciazioni e se quindi scaldiamo facciamo l'effetto di un freezer dove togli la spina marcisce tutto quello che c'è dentro e lì viene messo colossali quantità di metano e altra CO2 che sfugge di mano e accelera ulteriormente il processo ma ce ne sono almeno un'altra decina di meccanismi come questo non vorrei tediarvi ma variazione delle correnti oceaniche fusione della Groenlandia la desertificazione del bacino amazzonico il cambiamento di colore dell'oceano per la fusione della banchisa quindi il mare scuro poi si scalda molto di più della zona bianca che rifletteva quindi aumenta il riscaldamento e la sua velocità l'acidificazione degli oceani è uno di quei problemi che io spero di non vedere perché nel momento in cui avviene tutti gli organismi con guscio carbonatico non possono più sopravvivere l'acqua diventa corrosiva nei confronti dello scheletro della conchiglia e quindi arriviamo a un'estinzione di massa accelerata cosa che è già successa in un passato remoto ma noi non c'eravamo per questo che vorrei non vederla per cui lavoriamo tutti proprio per quei nipoti l'ultimissima domanda l'ultima facciamo buonasera mi chiedevo una cosa fermo restando che diciamo i paesi occidentali dovranno ridurre le loro emissioni e conseguentemente per ottenere questo ridurre il loro sviluppo economico in qualche maniera lei prima citava un termine sobrietano non ritiene che questa cosa con l'inevitabile invece crescita di altre aree del mondo penso a Africa Cina e India che inevitabilmente dovranno svilupparsi e tenderanno a raggiungere il nostro livello di sviluppo rischi di vanificare l'obiettivo purtroppo sì infatti non siamo messi bene il cammino che dobbiamo fare è irto di difficoltà e abbiamo poco tempo e poche probabilità di riuscirlo a fare questo è bene che ne siamo consapevoli a Glasgow per esempio nessuno ha avuto il coraggio di parlare di sovrappopolazione bisognava aprire questo tema anche solo che ci sono implicazioni religiose implicazioni di affari interni dei singoli paesi implicazioni antropologiche allora sì è meglio parlare di petrolio e di carbone però il tema è all'India puoi dire benissimo io ti do le pale eoliche e i pannelli solari di ultima generazione così tu non bruci il carbone questi sono i soldi i famosi 100 miliardi che i paesi ricchi dovrebbero dare ogni anno a quelli poveri per aiutarli in questa transizione ma in cambio fai meno figli quello era il sottinteso che non è stato detto su cui non c'è nemmeno un'animità nella comunità scientifica io sono di quelli che ritengono che se già abbiamo enormi problemi adesso con 7,8 miliardi di cui uno non mangia e giustamente dovrebbe ancora salire pensate che con quando saremo 10 miliardi le cose saranno più facili da risolvere suonano le campane e quindi grazie a voi dell'attenzione anche a chi ci segue solo oltre a ringraziarti di essere venuto insomma volevo ricordare che comunque questo incontro con Luca Mercalli rientra in questo calendario di iniziative di educazione animazione ai temi dell'agenda 2030 che diciamo stiamo coordinando con l'Università IUAV di Venezia assieme al Comune di Rovigo e all'Urban Digital Center che continua nei prossimi mesi e che spieghiamo che possa essere abbiamo lavorato molto online nei mesi precedenti per ordine per ovvie ragioni ma adesso diciamo l'Urban Digital Center si è popolato Luisa Cattozzo chiudo chiudo brevissimamente perché questa sia un'occasione di stimolo per scusate ma non posso andare davanti al relatore è lo stesso la voce allora l'importante era ribadire il fatto che l'occasione di questa sera è anche appunto di una nuova apertura di dialogo su tutti questi temi abbiamo creato uno spazio che si presta bene anche a queste occasioni ce ne sono anche di più piccole all'interno di questo stabile poi auguro a tutti voi di tornare anche a visitare a capire questo progetto e il tipo di impatto sotto il profilo della collaborazione e non tanto solo ecco della partecipazione che l'amministrazione ha messo in campo come nuove sfide su tutte le progettualità che diceva anche la collega Merlo il clima è uno il clima che cambia uno di quei temi che in maniera trasversale tocca tantissime componenti ne abbiamo perlustrate molte forse non tutte questa sera e questo è semplicemente ecco un avvio di un momento che mi auguro di vedervi partecipi anche in futuro anche nei momenti in cui proprio con con UAB stiamo animando sul territorio qui nelle palestre digitali di Rovigo ma anche di Villa Dose Adria perché questo è un progetto allargato ad una comunità un po' più ampia in cui trattiamo tutti quegli obiettivi che abbiamo visto e che andiamo però a misurare anche sotto il profilo percettivo di noi come cittadini sul territorio che viviamo e quindi valutando proprio come noi possiamo contribuire al raggiungimento anche di obiettivi globali visti sotto diversi punti di vista io chiudo e lancerei una sfida nel nostro territorio parlando poi si è parlato molto di fonti energetiche rinnovabili eccetera non è stata nominata una fonte che io credo che potrebbe essere anche una interessante sfida di ricerca che è quella della geotermia Milano ha dimostrato recentemente di aver saputo riqualificare interi quartieri molto popolati perché con il passaggio dalla precedente industrializzazione che si è gradualmente poi riversata invece su settori produttivi più di terziario la falda è risalita e quell'acqua che è tornata in superficie consente appunto di rifornire energeticamente in maniera pulita interi quartieri queste sono anche delle modalità di guardare alle risorse di un territorio di capire come si possono eventualmente studiare degli approcci e delle fonti rinnovabili che abbiano una forte connotazione locale che appunto non è uno standard come ci immaginiamo magari applicate ad altre fonti quindi io lascio questo un po' come uno stimolo ecco di ragionamento perché noi abbiamo l'acqua ne abbiamo parlato l'abbiamo proprio quasi in superficie cerchiamo di capire se questo potrebbe essere un percorso da in qualche modo poter sfruttare perché a quel punto ha bisogno dell'energia rinnovabile e l'elettricità la geotermia ha bisogno di elettricità e può dare una parte una componente con le pompe di calore bene grazie a tutti grazie noi andiamo a mangiarci la fiorentina adesso grazie a tutti grazie a tutti